Questo volume delle Domeniche di Marco che il lettore ha tra le mani È un libro di pensieri, di riflessioni, di suggestioni per l'oggi Ecco ringrazio la studiosa Olga Balzano Melodia che ha collaborato con me nella realizzazione di questo volume Dedicato alle Domeniche di Marco È un volume questo che raccoglie solo le riflessioni inerenti le Domeniche di Marco Spero che chi si accosta a questa lettura possa nutrirsi dello stesso amore Che ha portato noi a riflettere e a scavare nella parola di Dio e nello studio di questo Vangelo Abbiamo voluto dedicare questo volume ai nostri genitori I quali ci hanno trasmesso i veri valori della vita Ecco ringraziamo la casa editrice Mipep Docete di Milano Che ha stampato questo volume E ringrazio nello stesso tempo il signor Antomino Neri per la collaborazione informatica Regaleremo assieme al volume Questa piccola guida All'uso del sussidio per pregare la parola Il libro è già in vendita online E sta riscuotendo tantissimo successo Inoltre c'è la vendita cartacea Che è quasi esaurita Ecco ringrazio quanti di voi compreranno questo libro E ringrazio la Mipep Docete E ringrazio la Mipep Docete